Ciao, mi chiamo Renzo Bergamo, sono l'insegnante e coreografo della palestra Body and Mind, diretta da Luciano Aschieri qui presente. Ciao a tutti, siamo venuti qua per fare una presentazione del nostro spettacolo che faremo il 30 di giugno in Piazza al Mare. Oggi presenteremo le piccole debuttanti, le piccole del secondo corso e le medie con i ragazzi. Mancano solo le grandi che invece saranno a Genova tra due giorni, quindi le abbiamo lasciate riposare. Comunque è un bello spettacolo, buon divertimento. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.